Allora vi dico già che questo è un rumor, ma non è basato su chissà cosa, quindi già vi volete ammazzare, sono sicuro, Frank, ma come? Una notizia così, ma ne voglio parlare sempre perché è il contesto che secondo me è interessante da analizzare. Glenn Powell sarà il Batman del DC Universe, l'indizio che fa sognare fa uno, io non ho mai sognato Glenn Powell come Batman, al massimo lo sogno così, perché uno si sogna pure a Glenn Powell. Però Frank c'è un'altra domanda, un'altra domanda su Glenn Powell come Batman. Sarà in Deadpool e Wolverine? Questo ci dobbiamo chiedere. Con Sidney Sweeney. I riflettori sono al momento tutti puntati su Superman, sappiamo perché Giacomo Pistola sta facendo il film, ma i fan non dimenticano che il DC Universe è ancora privo del suo Batman. In realtà ci sarebbe un Pattinson, però sappiamo che è l'altro universo di DC. Le voci sull'attore a cui toccherà ereditare il ruolo di nomi del calibro di Michael Keaton e Christian Bale si susseguono incessanti. Dov'è Ben Affleck, scusatemi, perché non lo citano? Perché non è Batman, perché non esiste. È il miglior Batman di sempre, il migliore. Oddio, questo non lo so. Il suo mento quadrato. Il mento quadrato sì, però... Oddio, me Batman imbolsito non mi piace tanto. Vabbè, comunque, finiamo la notizia. È talmente amato, Frank, Frank, il Butt Affleck, è talmente amato che tutti se lo dimenticano. È strano, è un po' come Jared Leto che fa Joker. Non se lo ricorda mai nessuno. È una cattiveria. Stiamo parlando di Glenn Powell, fresco, fresco di successi come Top Gun Maverick, in cui l'attore principale in realtà era Tom Cruise, però vabbè. È in questi giorni in sala con il suo Twisters, l'attore di tutti tranne te, ecco, appunto, è uno dei nomi più quotati a Hollywood. Questo è vero, ma in realtà non hanno citato uno dei migliori film, forse l'unico film decente che ha fatto, cioè The Hitman. Per cui era inevitabile che finisse prima o poi in questo trintacarne che è il Toto Casti. Ma da cosa è partita la scintilla che ha dato lì alle speranze il là? Mamma mia, gli articoli. Ma da una arca, questa vero, guarda. Da cosa è partita la scintilla che ha dato il là alle speranze dei fan? Grande, con tutti gli occhi. Fantastici. Grande Ivano di Vano, no, no, Ivano Marra. L'indizio che in queste ore ha attirato l'attenzione degli utenti social, attenzione. Mica è un'affermazione proprio di una produzione, no. È in realtà poca cosa, ve l'ho detto, però dice pure quello dell'articolo. Ma in situazioni del genere tanto basta, ok? Powell, infatti, attenzione. L'urlo di Tamburi ha cominciato a seguire i social di James Gunn e Drew Muschietti. Che ricordiamo era stato scelto come regista di Batman, Brave and Evold, salvo poi, almeno secondo gli ultimi aggiornamenti in merito, abbandonare il progetto. Powell, d'altro canto, si è detto anche tempo fa disponibile a interpretare Batman in futuro. Che sia una volta buona per la cosa, perché la cosa si concretizzi. Allora, vai su Instagram, segui James Gunn e magari fanno un articolo su te che fai Batman. Aspetta, aspetta, aspetta. Però non è solamente un... Secondo me una faccia ce l'hai, eh? No, allora, diciamolo che... Il vocione c'è? A me farebbe piacere. Frank Grillo segue James Gunn. Esatto. Allora, facciamo un discorso un po' più serio, a parte scherzi. Non si basa esclusivamente su questo, anche perché sappiamo che quando le voci iniziano a girare, solitamente hanno comunque un fondo di verità, c'è sempre. C'è sempre un fondo di verità. L'abbiamo visto con Blade, l'abbiamo visto in tanti casi. Ma soprattutto, vabbè, lasciando il fatto che, guarda caso, proprio adesso, Glenn Powell si è messo a seguire i profili di James Gunn e Andy Muschietti. Chissà perché. Però vabbè, lasciamo verde questo. Sappiamo che, come dice l'articolo, è un po' l'attore sulla cesta dell'onda. Ha fatto, tutti tranne te, ha fatto, che comunque era una merita schifezza, però lasciamo verde. C'era pure in Tom Cruise, adesso ha fatto The Hitman, ha fatto Twister. E se ci pensate, Twister sta avendo un buon successo, a me sembra, nel studio. Non ho visto ancora i dati del botteghino, però mi sembra che sia... Almeno, vabbè, io sono andato a vederlo la sera piena, eh. E io, è forse la terza, quarta volta. 80 milioni. 80 milioni in America. Su budget, su che budget? Su che budget? 150-200. 150, quindi supererà tranquillamente il budget, rifarà probabilmente il 2 o 3. Allora, scusate, al momento è a 123 milioni e 200 totali in tutto il mondo. Ah, sì, 85% nel settembre. Secondo me fa il per tre, lo fa tranquillamente, perché gli americani lo stanno andando a vedere, ragazzi. Perché il tema è comunque molto americano, i Tornados qui sono molto frequenti, come ben sappiamo, quindi loro ci tengono molto a quel tipo di argomento. E' un classico della storia del cinema, possiamo dire, catastrofico, possiamo dirlo. Il primo twister lo trasmettevano in Italia ogni sabato, mi ricordo, su Italia 1 o che che sia. Me lo ricordo ancora. Quindi, sta avendo successo e avrà successo. E lui, a quanto pare, è un attore abbastanza amato, almeno attualmente. E quindi, ci sono tutti i presupposti effettivamente per farlo diventare un Batman, anche perché ora, lui è un po' biondino, in effetti. Ora, non c'ho una foto, ma magari dopo, quando do la parola a voi, per mi dite cosa ne pensate. Più che altro, ragazzi, vi chiedo cosa ne pensate, ovviamente, di lui come Batman, perché c'è una foto in cui effettivamente lui potrebbe andarci abbastanza bene come Batman. Anzi, ora ve la mostro pure, così poi vi fate il vostro discorsetto sopra. Eccolo qua. Ragazzi, ci sta. Il mento ci sta. Gli occhi ci stanno. Il sorrisone, che lo vedete pure qua, a fianco a me, lo vede, ci sta. Il capello, basta che... Allora, lo devono fare, è un po' più scuro, un po' più moro, e il Batman ci sta. Poi, Batman non ha mai avuto bisogno di grande interpretazione. Parliamoci chiaramente. Batman è molto... è un po' un pezzo di legno, no? Christian Bale non è che abbia fatto chissà che, quando ha interpretato Batman, nonostante per me sia uno dei migliori Batman, ma lo stesso Ben Affleck praticamente è imbolsito, cioè lo stesso Keaton, Keaton non è che ha fatto chissà che quando ha interpretato Batman. No, è stato bravo. Ma chi è stato bravo? Non riusciva anche a girare il colo con quel costume di merda. Allora, qui, Glenn Powell, secondo me potrebbe andar bene, perché poi non è manco tanto cane come attore. A me mi ha stupito in The Hitman, non è che ha fatto chissà che, però ha fatto una bella prestazione in The Hitman. A me è piaciuto, come ho detto, il film è piaciuto abbastanza. Infatti l'ho leggermente rivalutato da quel film a questo attore, perché poi, dopo tutti tranne te, sinceramente l'avevo schifato a morte, invece con The Hitman l'ho parzialmente rivalutato. Quindi magari mi tiro la tappa sui piedi dicendo questa cosa. Secondo me potrebbe essere un buon Batman. Secondo me potrebbe essere un buon Batman. Poi, come sappiamo, si sono avvicendate diverse voci in questi periodi. C'era chi parlava tempo fa di coso lì, di Jay Gillenal. C'era chi parlava di quello di Star Wars lì, non mi ricordo il nome, Christensen, se non sbaglio. Hayden e Christensen. Hayden Christensen. Insomma, di nomi ne abbiamo tanti, di nomi ne abbiamo tanti. Però vi dico la verità, lui potrebbe secondo me essere tra i migliori nomi attualmente, perché Jay Gillenal sinceramente non lo vedo più di tanto. Lui invece ce l'ha l'aspetto e anche per questo uno dice magari c'è un fondo di verità in questa cosa. Non so, voi cosa ne pensate? Stavolta partiamo di nuovo da Andrea. Andrea, tu che ne pensi? Allora, esteticamente mi piace. Ce lo vedo come Batman, come dici tu. Comunque i lineamenti ci sono, la stazza fisica c'è, poi l'ha dimostrato anche in Top Gun, se vuole bulcare lo può fare molto bene. e quindi anche proprio per tenere il ruolo c'è. Non lo vedrei male. Sicuro lo vedrei molto meglio di Pattinson, perché io, ragazzi, ve lo devo dire. No, a me è Pattinson. No, mi dissocio. No, no, no. Io mi dissocio. No, no, tutto secco secco. Cioè non può tenere, non può tenere. Quindi vedrei molto meglio lui. L'unica cosa che spero, però adesso faccio una domanda a Frank, perché tu l'hai sentito in lingua originale, e quindi ti chiedo come è effettivamente, perché non ho avuto modo neanche di sentirmelo in lingua. Sì. Com'è la sua voce? No, ci sta, ci può stare come Batman. Poi lui è stato bravo in The Hitman, ancora una volta lo dico, perché lui ha saputo il suo personaggio cambiando anche il tono della voce, l'accento, quindi molto bravo. Mentre in Twister ha fatto praticamente il campagnolo Zoticone, un po' così, che però in realtà sappiamo non era proprio Zoticone, ma si è rivelato, vabbè, è un po' un cliché stato nel film Thister. Però, allora, ripeto, non è da tutti tranne te, aveva avuto una brutta impressione di lui. Non è così cane come attore, in realtà. È decente come attore. Questo l'ho rivalutato negli ultimi film. Questo lo dico sinceramente. Ti ho fatto questa domanda, perché in Twister si è stato doppiato da Davide Perino, che è la voce di Frodo, per dire. Lo so. Quindi, se dovesse esserci un Batman con lui, quello che spero è che però gli cambino il doppiatore italiano, perché tu non vuoi associarlo. Però se chiudi gli occhi e senti Glenn Powell parlare in Twister, pensi a Frodo. Sì, lo so. Tra l'altro, il doppiatore a me non è che mi garba più di tanto, però vabbè, quel doppiatore è lì. Poi, o Frodo o Sciale Buff in Transformers. Cioè, l'associazione è quella, quindi, boh, l'unica cosa. Sior Arca, le do la parola a lei, però prima le metto una foto che può ispirarla di più a dire quello che pensa. Eccolo. Sì, che è sweet. No. Ma che è sta cosa? Prego, signor Arca. Vediamo. È tutto per lei. Ma poi, non è Photoshop, no, no. Non è photoshoppato, no, no, infatti. No, 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 è lui. Fisicamente è lui, però è stata photoshoppata. C'è qualche proposta strana. Ah, il collo un po'... Rimane sul po... Arca si sta... Però se lo sta guardando, signor Arca. Però, ragazzi, no, i peli sono i suoi. Il collo. Basta, raga, vabbè, no, non analizziamo i peli sul... No, perché in Twister, i peli sono quelli. No, ma sembra... King... Sembra King... Non lo so dire. Il gioco di cui parlavano quelli sul server, sul Medioevo, e... Vabbè, anche un Sandragon. Kingdom Come, Kingdom Come. Arca, rimaniamo sul punto che dobbiamo andare avanti. E c'era gente con i colli spezzati e quindi mi fa ridere perché mi viene in mente quel gioco lì. Vabbè, tanto questo. Allora, il discorso qua è più interessante di quello che sembra. Perché? Altri di tu. Vado prima sul... Arca, allora, le metto una foto un po' più seria, così puoi fare... Prego, prego. È lui, qua è lui. Dai, ci credo un pochino di più, forse. No, no, dicevo, a me lui piace molto perché io vedi Hitman, non The Hitman, Hitman, già a Venezia e mi conquistò. Eh, Hitman, scusi, chiedo scusa, chiedo scusa. No, Dateman, non è Dateman, e mi conquistò, l'ho visto la lingua originale, poi me lo sono ricordato successivamente per Top Gun Maverick, dove aveva un ruolo che si ricorda, faceva un po' lo stronzetto, ma aveva la faccia giusta. Poi, nonostante quella ciofeca di Anyone But You, lui è simpatico, cioè rispetto alla Sweeney, che è solo un merce esposta, lui riesce anche ad essere simpatico ogni tanto. E poi in Twisters mi è piaciuto, nonostante abbia un ruolo secondario rispetto alla bravissima protagonista, ma anche il suo momento drammatico. Quindi a me come attore piace, è uno di quelli che ho preferito quest'anno, è proprio uno stile d'attore che piace a me, cioè che sa essere comico e drammatico quando vuole, è di bel aspetto, quindi può fare anche ruoli action, eccetera, eccetera. È uno un po' alla, non so come dirti, alla Christian Bale, no? Cioè che ti funziona un po' in tutte le salse, ce lo metti, è un po' comico, è un po' drammatico, è un po' action, è un po' film impegnato, cioè non è monocorde come personaggio, non mi piace molto. Scusa, ma Bale comico dove? Bale in American Psycho fa morire da ridere. Non lo so, io lo trovo sempre pratico. In certi momenti sì, in certi momenti sì. Cioè fa delle facce Christian Bale. In American Psycho, in American Psycho. Anche in, come si chiama quello lì, dove lui è obeso. Hastle, American Hastle. Sì, American Hastle, quindi lui si sa adattare, è un tipo di personaggio che mi piace perché, cioè non è il migliore di tutti i tempi, però è bravo perché se lo metti in un film ci sta. Quindi non è monotematico, ecco, non è monocorde. Sì, sono d'accordo su questo. Poi, andiamo. Sapete, io non amo affatto, anche se non ho visto niente, non mi piace l'idea che James Gunn prende in mano questo DCU perché credo che la DC si meriti un regista un po' più serioso. E James Gunn è serioso sì, ma tende al melodrammatico e alle battutine. E questo non è la Marvel, ma è la DC. Ho molta paura e come ho detto non voglio un altro Batman perché c'è già quello di Pattinson e mi terrei quello. Detto questo, è ovvio che Gunn voglia nel suo universo Batman. Questo è chiaro. Se ha messo Superman non può non mettere Batman e deve collegare un po' come la Marvel e i film, quindi eccetera eccetera. Quindi, siccome è una condanna che ci sarà un nuovo Batman, se proprio dovesse esserci lui, nell'universo di Gunn ce lo vedo bene. In che senso? Perché a Gunn piace un po' il Chris Pratt della situazione, che non è tanto diverso come ruolo. Cioè uno che è esterioso, sì, che fa il ruolo tutto cupo, sì, che ti fa la scena d'azione, sì, ma allo stesso tempo deve fare anche un po' ridere, deve essere simpatichello. Quindi un Pattinson con Gunn non ce l'avrei mai visto. Come non vedo Glenn Powell con Matt Reeves. Quindi può funzionare. Il fatto che sia un po' simpatico, un po' alla Twister, se vogliamo, che fa un po' lo spaccone, perché Batman fa un po' lo spaccone. Perché è una maschera, è una maschera, cioè Bruce Wayne è la maschera di Batman, come sappiamo. Quindi fa lo spaccone, arriva con le modelle, fa tutto quello ricco e mi compro qua, compro là, faccio, dico. Quindi un Glenn Powell, versione Twister, che fa lo spaccone, ma poi nei momenti più importanti diventa Batman e quindi diventa cupo con un bel costume, può funzionare. Quindi se proprio ci deve essere, ovviamente questo Batman, come sto dicendo, non arriverà prima del 2027, sappiatelo. Perché se nel 2025 arriva Superman e deve uscire delle serie che Gunn sta girando adesso per il 2026, Batman non può che arrivare almeno nel 2027. Se poi non avrà altri progetti, che poi c'è il film sulle lanterne verdi, quindi voglio aspettare... Sì, no, in realtà c'è la serie Arc sulle lanterne verdi, io ne volevo parlare pure, la serie. Cioè Peasemaker, la nuova di Peasemaker. Sì, però i presupposti non sono tanto male, in realtà rischiamo di avere due Batman decenti. Poi Andrea ha detto che Pattinson non piace, nemmeno a me Andrea in realtà più di tanto, a me proprio The Batman non è piaciuto più di tanto, l'ho un po' rivalutato poi rivedendolo, e lo so, l'ho un po' rivalutato rivedendolo, però è proprio il film che a me non mi ha fatto, e il mio personaggio preferito dei fumetti è Batman, eh, lo sapete. Quindi io sono particolarmente legato a quel personaggio là. Però non è da buttare, di certo è meglio di tanti altri del passato. E dall'altra parte potremmo avere un Glenn Powell, che potrebbe essere un Batman un po' più popolare, da un certo punto di vista, un po' più populista, ma mettiamola così.